Ciao a tutti, benvenuti nel canale. In questo nuovo video dedicato a Paper Mario d'Origami King voglio illustrarvi il sistema di gioco. Dopo avervi mostrato il combattimento, voglio passare a spulciare le varie opzioni. Paper Mario è un open world in un certo senso, anche se ha i suoi limiti. Nel corso dell'avventura potete esplorare diverse località. E in ogni località, come vedete, ci sono Toad da salvare, strappi da sistemare, tesori da collezionare e blocchi da colpire. Quindi, diciamo, in ogni ambiente dovrete esplorare per bene alla ricerca di questi elementi. In qualsiasi momento potete consultare la mappa dei luoghi scoperti. Su Info, invece, avete la possibilità di tenere sotto controllo il castello e i vari nastri che dovete eliminare per poter accedere al castello. Quindi, tramite Info, avete la possibilità di vedere il vostro gruppo, i nastri, l'ultimo salvataggio e così via dicendo. In armi, invece, accessori e oggetti. Ci sono tutte le armi, gli accessori e gli oggetti che avete sbloccato nel corso dell'avventura. Nel caso delle armi, avete a disposizione scarpe e martello in varie versioni. Quindi, più andate avanti con la storia e più, diciamo, sbloccate versioni alternative delle scarpe e del martello. Naturalmente, io vi sto mostrando la fase iniziale per non spoilerare. Accessori, stessa cosa. Potete sbloccare ed equipaggiare degli accessori che vi torneranno molto utili. Gli oggetti, invece, sono i classici consumabili che possono essere utilizzati in battaglia, per, ad esempio, colpire più nemici, ripristinare la salute e avere altre agevolazioni. Infine, ci sono gli oggetti chiave, che sono oggetti che raccoglierete nel corso dell'avventura e che vi serviranno per poter proseguire. Un'ultima cosa, le monete. Le monete a cosa servono? In Paper Mario potete accumulare monete rompendo casse e in altri modi da spendere per l'acquisto di abilità temporanee e oggetti di vario tipo. Questo per quanto riguarda la struttura di Paper Mario The Origami King. Quindi, come è strutturato il gioco, quello che potete sbloccare, quello che potete fare, e così via dicendo. Nei prossimi video, poi, vi parlerò di altre caratteristiche interessanti. Grazie. Grazie.